L'interramento di una tratta di circa 540 metri della ferrovia di San Giovanni Teatino e uno degli snodi del raddoppio della linea Pescara-Roma. Siamo nel centro di San Buceto, da via Pertini, al termine di Corso Italia. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina si è recato sul posto per esaminare la fattibilità di interrare una porzione significativa della tratta principale al fine di evitare il passaggio urbano e ridurre le criticità e l'impatto legate alla nuova infrastruttura. Senza questa modifica, il progetto di raddoppio della linea ferroviaria rischiava di dividere San Giovanni Teatino con l'innalzamento di barriere antirumore di quasi 6 metri. Il progetto definitivo sarà illustrato a ottobre nel corso del dibattito pubblico presenti tra gli altri i tecnici di RFI e Italfer, il sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente ed il consigliere regionale Mauro Febbo. Tale soluzione, ha spiegato il governatore, rappresenta una scelta importante e strategica poiché contribuirà a preservare l'ambiente urbano e a migliorare la vivibilità delle aree interessate. Oltre alla possibilità di interramento, l'attenzione del Presidente e dei tecnici si è concentrata anche sull'individuazione della posizione ideale per la realizzazione di una stazione ferroviaria prevista in corrispondenza dell'aeroporto che servirà a potenziarlo e a renderlo fruibile per il territorio circostante. Grazie a tutti.